VOX ISCHITANA PRESENTA LA MANCINETE Buonasera, io mi chiamo Anna Di Tranni e faccio parte dello staff della scuola di canto lirico Lina Cabanieri di San Positonio a Modena. Ci troviamo qui questa sera nel Museo del Mare per l'inaugurazione con l'associazione da Ischia Latte e Vila. Abbiamo con noi questa sera il violinista Giulio Milichetti, che stasera si esibisce ancora per noi. Giulio, cosa ne fece nel Museo del Mare? È un ottimo museo, ci sono molti raccolti, quelli che io definirei archeologici. Ho visto molte cose interessanti, quindi penso che sia un buon museo, un ottimo museo. A che età hai scoperto di voler suonare il violino? Allora, tutti direbbero 5 anni, io dico verso i 16 anni. Ah, quindi un'icona alzata per… Sì, perché i primi 10 anni sono sempre più duri, dove si scudia, dove si coltivano tante cose. E purtroppo tante volte lo strumento può essere… da chi lo suona… vuol dire, è maltrattato un po', perché uno studia tante ore e poi dopo è anche costretto alcune volte, quindi uno si stupa di studiare. Sì, però poi un lavoro diventa piacevole alla fine, quindi adesso come adesso è più piacevole che prima. È passato il mio primo, è il momento critico. Bene, ringraziando Giulio Menichetti e sperando di ascoltarlo non solo stasera in inaugurazione, ma anche in altre occasioni. Sì, buonasera. Grazie. Allora, mi chiamo Giulio Menichelli, ho studiato da 5 anni, ho studiato da conservatore di Santa Cecilia e in contemporanea con molti altri maestri. I più importanti per me sono stati Charlum Buder, che era il concertino a tempo dell'Opera di Roma. Poi c'è stato un maestro molto bravo, famoso, che si chiama Georg Munch, che è un maestro tedesco-russo, metà tedesco e metà russi. Dove mi ha, come dire, trasmesso molta tecnica, molta bravura di lui. E poi ho studiato due anni a Sion, dove ho portato anche un altro maestro americano, che è molto bravo, si chiama Sergio Schwartz. Ho studiato con lui due anni, ho preso la laurea e poi nel frattempo mi sono anche diplomato in conservatore. In Accademia ho studiato tre anni, ho fatto i corsi di perfezionamento di violino e musica da camera e in contemporanea ho fatto l'Accademia di Sion in Svizzera. Ho studiato anche con Velikov e Accademia, due rivisti molto virtuosi, famosi, che un po' mi hanno aiutato. Tuttavia è stato molto difficile raggiungere certi livelli, ho dovuto studiare molto, molto concentrato, molto concreto. Però sono felice di aver raggiunto un buon obiettivo, ecco. Ora oggi cerco lavoro, facendo audizioni in giro di orchestre molto importanti, quali Maggio Fiorentino di Firenze, Genova c'è l'orchestra del teatro Felice, Carlo Felice. E poi a Milano ho tentato con la Scala e a Roma con l'Accademia. Tuttavia non è molto facile perché siamo tanti in cerca di lavoro e quindi ogni volta è un sorteggio. Oggi lavoro nelle scuole e nel frattempo cerco un'orchestra. Sono molto contento di suonare qui stasera nel Museo del Mare. e molto contento di essere stato invitato in questa serata. E sono anche contento che la gente mi stia piacendo quello che io e la cantante e il pianista stiamo riuscendo a realizzare. e non abbiamo fatto molte prove ma la gente sembra felice di stare riuscendo. E sono molto felice anche di essere a Ischia perché una parte dell'isola dove non ero mai stato. ero stato nell'altra parte quando ero più piccolo per un'orchestra del teatro dell'opera giovanile di sempre di Roma. Mi piaccia anche molto questa parte dell'isola. è un'altra parte di stagione di Roma nel parma che stiamo riuscendo. E sì, invece sono molto felice, ma vi stiamo riuscendo a realizzare. E con la vibrazione di Roma in Asia e il primitolo di Roma dove si togla un grande anno. E con la vibrazione di Roma è vento di Roma. E con i monti ancora energia... Grazie a tutti. 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 a tutti.